Tre piccoli pirati. Il forziere. Per costruire il forziere del tesoro vi servono una scatola di plastica trasparente della frutta che si apre e chiude, tempera marrone e pennello, cartoncino giallo, cartoncino nero, cartoncino carta crespa del colore che volete, forbici, colla, pennarello, matita e bottoni per decorare. Iniziate colorando tutte le parti esterne della scatola e lasciatela asciugare. Prendete la carta crespa e provate a vedere quanta ve ne serve per ricoprire l'interno del vostro forziere. Con le forbici tagliate la quantità che vi serve e incollate. Adesso che il forziere è pronto aggiungete i particolari per renderlo più bello. Il lavoro è un po' lungo, potete anche interromperlo e riprenderlo domani. Disegnate delle righe sul cartoncino giallo e tagliatene quattro della stessa lunghezza. Appoggiatele ai lati del forziere e tagliate il pezzo che sporge. Mettete la colla e premete bene le queste strisce perché la colla richiede un po' più di tempo sulla plastica. Fate la stessa cosa per la parte inferiore del forziere. Tagliate un quadrotino del cartoncino giallo e provate a disegnare la serratura con un pennarello nero. Potete farvi aiutare anche dalla mamma o dal papà se questo lavoro è un po' difficile. Incollate la serratura nella parte inferiore del vostro forziere. Aggiungete bottoni o gemme per decorarlo. Io ho disegnato anche un pirata ma potete decorarla come più vi piace. Adesso aprite il forziere e mettete dentro ciò che volete fare per creare il vostro tesoro. Potete disegnare delle monete, mettere dentro delle monete di cioccolato, mettere dentro dei bracciali o delle collane e anche giocattolo. Potete pensare a quello che più vi piace. Disegnate adesso una mappa che conduce al vostro forziere e organizzate una bella caccia al tesoro. Buon gioco pirati!